salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di domotica e più precisamente di domotica da giardino o da terrazzo sì perché il prodotto che di cui parleremo oggi è lui il beehive della orbit un rubinetto timer smart che ci permette di avere fiori e piante sempre verdi perché lui con la sua tecnologia è possibile configurarlo e andare a programmare l'applicazione veramente completissima come vedremo dopo e soprattutto avere la possibilità di intervenire ovunque noi siamo se lo utilizziamo in modalità wifi cioè se abbiamo in casa un router quindi lo configureremo collegandolo alla rete wifi del nostro router mentre se non abbiamo questa possibilità è comunque possibile utilizzarlo in bluetooth però ovviamente utilizzandolo solo in bluetooth sarà una comunicazione tra smartphone e il dispositivo appunto beehive ma questo solo se siamo in una distanza in cui il bluetooth e comunica con lo smartphone quindi parliamo di una decina di metri se non abbiamo l'estensione che è quella che invece ho io mentre se abbiamo questa versione con l'estensione possibile decidere se utilizzare il wifi o il bluetooth che però guadagnerà metri e può arrivare fino a 45 metri mentre se abbiamo una rete wifi domestica e andiamo ad associare a quel punto potremmo comandare il nostro rubinetto timer ovunque noi siamo da qualsiasi parte del mondo da qualsiasi distanza noi dovessimo decidere di comunicare potremmo farlo questo dispositivo lo troviamo venduto e spedito direttamente da amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione ma prima di parlare delle sue caratteristiche che io trovo davvero interessanti soprattutto l'applicazione veramente ben fatta guardiamo cosa c'è all'interno della confezione troviamo un manuale di istruzioni con anche la lingua italiana dopodiché troviamo il nostro hub wifi bluetooth con il suo alimentatore che si andrà a connettere uno nell'altro tramite la presa usb ed infine troviamo lui il nostro bi rubinetto smart completo di tutti gli accessori per il collegamento sia al rubinetto che alla canna dell'acqua quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione ovviamente lui è un dispositivo totalmente impermeabile perché può stare tranquillamente all'acqua e soprattutto va fissato sotto un rubinetto quindi anche se ci sono delle perdite o essere dall'acqua dal rubinetto non c'è nessunissimo problema lui è totalmente impermeabile qua vanno inserite per farlo funzionare due batterie stilo doppia A non incluse in confezione mentre per quanto riguarda i materiali li trovo veramente ottimi qua sopra la parte in cui va fissata al rubinetto abbiamo un attacco a vite da tre quarti di pollice il classico che abbiamo sotto a tutti i rubinetti da giardino c'è una piccola rete filtrante mentre qua sotto abbiamo sempre un attacco a vite con il suo adattatore incluso in confezione dove avremo la possibilità di agganciare un aggancio rapido il classico delle canne dall'acqua che abbiamo normalmente in giardino questo dispositivo lo proveremo tra poco quindi vi faccio vedere proprio a fissarlo e a farlo funzionare ma come abbiamo visto nella confezione troviamo anche questo accessorio che è un dispositivo ab wifi bluetooth cosa vuol dire che con questo dispositivo avremo la possibilità di collegare il nostro bi live direttamente alla nostra rete wifi per potere comandare appunto ovunque noi siamo controllare ovunque noi siamo il rubinetto bi live e poi la possibilità di estendere bluetooth perché normalmente lui avrà una connessione bluetooth che può arrivare intorno ai 10 metri classica connessione bluetooth mentre se utilizziamo questo dispositivo ma non abbiamo una rete wifi potremmo comunque utilizzarlo per il bluetooth ed estendere la nostra comunicazione fino a 45 metri dipende poi uno dalla possibilità che ha per quanto riguarda la connessione se ha un router ovviamente lo connetterà wifi altrimenti bluetooth ovviamente sotto questo ab possiamo connettere più dispositivi bi live se abbiamo la necessità di avere appunto più rubinetti smart all'interno del nostro giardino o sul nostro terrazzo comunque o giardino e terrazzo contemporaneamente quindi diventano davvero molteplici le sue possibilità di utilizzo come vi dicevo il suo punto di forza ovviamente oltre il funzionamento è sicuramente l'applicazione che io trovo veramente completa che ci dà tante possibilità di programmazione che interviene anche con un meteo rilevando dove ci troviamo quando piove potrà andare ad interrompere anche la nostra programmazione che gli abbiamo dato ovviamente tutto questo è bypassabile possiamo decidere di non calcolare il meteo quindi di fare irrigare o annaffiare anche quando il meteo da pioggia quindi però è sicuramente un'applicazione che ci dà tantissime possibilità di configurazione per la prima cosa ovviamente che dobbiamo fare scaricare l'applicazione bi live disponibile sia per ios che per android e andare a configurare i due dispositivi con l'applicazione quindi apriremo l'applicazione che ci darà subito la possibilità di andare a configurare un nuovo dispositivo il primo accessorio da configurare è lui quindi andremo a configurarlo andremo ad associarlo alla nostra rete wifi una volta configurato ed associato alla nostra rete wifi ci verrà chiesto di indicare la nostra posizione geografica potremmo usare il pulsante in cui verremo rilevate automaticamente dal gps o inserire noi manualmente dove abitiamo questo per avere un meteo preciso appunto se dovessimo utilizzare il ritardo pioggia o il appunto non andare ad irrigare quando il meteo da pioggia una volta fatto questo ci verrà chiesto di associare il nostro dispositivo principale quello che è il nostro rubinetto smart una volta fatto anche questo ci verrà chiesto se vogliamo utilizzare il tutto tramite wifi o bluetooth quindi potremo scegliere una delle due opzioni e una volta finito anche questo passaggio saremo arrivati alla conclusione di quello che è l'installazione poi avremo la possibilità a questo punto della configurazione di scegliere se vogliamo una modalità chiamiamola così classica o una modalità intelligente la modalità intelligente ragazzi ci permette di avere più funzioni o meglio di configurare in maniera più precisa tantissime cose poi vedremo dopo tramite l'applicazione cosa intendo ma ragazzi potete configurare veramente di tutto dal terreno a dove è posizionato la piante i fiori cioè veramente di tutto e lui ovviamente calcolerà anche quanto il terreno rimarrà umido cioè pazzesco lo vedremo dopo mentre in una modalità tradizionale o classica chiamiamola come vogliamo avremo ovviamente la possibilità di irrigare in maniera smart pianificando appunto sempre orari giorni e tutto ma sarà appunto un tipo di pianificazione più standard una volta che avremo fatto tutta la configurazione vi troverete il led verde fisso per quanto riguarda lab wifi e anche il nostro dispositivo vedremo che sarà verde all'interno della nostra applicazione infatti adesso andiamo ad aprirla subito in alto abbiamo la percentuale di carica delle batterie che abbiamo all'interno del nostro dispositivo poi a destra abbiamo il simbolo del meteo con appunto la pioggia in questo caso perché oggi non è dato bellissimo come tempo e abbiamo 16 11 gradi che sono le temperature poi nella parte centrale della schermata abbiamo programmi pianificati che in questo momento non ne ho perché ho fatto tutto da zero appunto per farvi vedere com'è questa applicazione e come ve la trovate una volta installata e attivati i dispositivi quindi potremo avere qua i programmi pianificati in basso abbiamo irrigazione manuale perché potremmo far partire manualmente l'irrigazione sia dal tasto ovviamente qua far partire un'irrigazione non programmata che utilizzando il tasto che abbiamo in questa posizione potremmo andare a far partire manualmente l'irrigazione o quello che è appunto il rubinetto smart poi abbiamo ritardo pioggia che potremmo attivare manualmente o programmarlo all'interno di quello che abbiamo pianificato livello di programmazione di irrigazione poi a sinistra abbiamo calendario dove ci viene fatto vedere anche il meteo di tutti i giorni compreso le temperature il vento quindi un meteo molto completo poi abbiamo programmi quindi qua potremo andare a pianificare i programmi come vedete avete vari slot di programmi supponiamo di attivare il programma a possiamo andare ad inserire l'ora di avvio del programma possiamo andare a dirgli quale timer utilizzare perché potremmo avere più di un timer come abbiamo detto associato al nostro hub wifi e poi i giorni che vogliamo che venga utilizzato questo programma possiamo decidere giorni feriali o tutti i giorni della settimana o i giorni pari giorni dispari o dare un intervallo poi come ultima cosa dobbiamo dare un tempo di irrigazione perché gli abbiamo dato l'ora di avvio andando a cliccare sul più vicino a quello che è la zona di utilizzo gli daremo muovendo appunto il cursore circolare che abbiamo la durata dell'irrigazione quindi questa è la programmazione avete visto molto completa facile ma molto molto completa poi abbiamo zone vedete che questa è la zona dove abbiamo lui se ne dovessimo avere più di uno avremo varie zone la cosa interessante che già in questa schermata che ovviamente potremmo andare a cambiare anche la fotografia che vediamo in questa schermata è molto tutto configurabile anche a livello di immagini che potremmo caricargli noi quelle che vogliamo abbiamo un dato molto interessante che è l'umidità del terreno vedete che in questo momento è 36 per cento di umidità ovviamente non abbiamo un sensore all'interno del terreno è il calcolo dell'umidità data dalla pioggia che è venuta secondo il meteo o meglio dalla quantità di pioggia che è caduta in questo periodo data dal meteo quindi è una cosa un po virtuale però calcolando la quantità di pioggia caduta ci dà una sorta di indicazione in percentuale di umidità del terreno se ci clicco sopra vedete che abbiamo l'immagine del terrazzo possiamo andare a modificare dettagli della zona intelligente quindi andargli a dire anche che tipo di terreno abbiamo se al sole se abbiamo un irrigatore che tipo di impianto vedete all'interno di ogni voce quante configurazioni abbiamo guardate solo per il terreno perché appunto in base anche al tipo di terreno che abbiamo quello che è la posizione dove abbiamo i fiori le piante che cosa abbiamo se abbiamo fiori o piante appunto cioè nella funzione smart completa abbiamo veramente il mondo per quanto riguarda la configurazione poi sotto abbiamo eventi di configurazione e poi più in basso ancora abbiamo dati del sensore di flusso perché comunque il sensore di flusso che c'è all'interno del nostro dispositivo terrà calcolata la quantità di acqua arrivata nel terreno oltre a quella arrivata dal cielo anche quella che lui ha erogato quindi quanto umido sarà ancora il terreno dopo aver erogato tot quantità d'acqua in determinato terreno che abbiamo scelto e per un determinato tipo di piante che gli abbiamo detto in base alla posizione se all'ombra se al sole cioè tutto questo calcolo che lui riesce a fare tramite l'applicazione ovviamente stiamo parlando di dati virtuali però che ci danno davvero tanta indicazione e poi in basso a destra abbiamo il mio BI quindi abbiamo il nostro account i dispositivi quindi vedete che sia l'hub che lui hanno lo sfleghino verde quindi sono tutti connessi poi abbiamo notifiche che è veramente molto interessante questo discorso perché anche le notifiche hanno tante possibilità di configurazione vedete quanti tipi di notifiche possiamo andare attivare o disattivare in base a quello che vogliamo e ce n'è veramente di ogni tipo se vogliamo essere informati su qualsiasi cosa stia succedendo a livello meteo a livello di funzioni riguardante appunto il nostro rubinetto smart bi e poi abbiamo cronologia di irrigazione che ci darà una cronologia di quello che è stato appunto il suo lavoro quindi ragazzi è davvero super completo in ogni aspetto è pazzesco quindi detto tutto questo però secondo me è arrivato il momento di andare a testarlo quindi andremo ad installarlo e lo proveremo insieme per vedere come si comporta il nostro orbit di hive quindi adesso stacco l'hub wifi e andiamo perfetto una volta collegato il nostro hub wifi dovremo andare a collegare invece il nostro rubinetto smart quindi andiamo a sganciare lo sgancio rapido di quello che è la nostra canna dell'acqua andiamo a rimuovere l'adattatore che utilizziamo normalmente per lo sgancio rapido e andiamo a fissare il nostro rubinetto smart perfetto andiamo ad avvitarlo fino in fondo in modo che la guarnizione si comprima bene stringiamo forte ok qua sotto abbiamo il nostro adattatore per lo sgancio rapido vado ad inserire il nostro pack aggancio rapido e adesso siamo già pronti ad utilizzare quello che è il nostro rubinetto smart per provarlo ovviamente non ci resta che andare dove l'irrigazione dovrà andare a bagnare fiori e piante e vedere se tutto funziona quindi andiamo in questo punto e dove inizia a partire il tubo dell'irrigazione vedete fa il giro di tutto il terrazzo di modo che posso andare a mettere fiori e piante ovunque io voglia qua iniziano i primi fiori e quindi adesso vediamo come si comporta dal punto di vista del suo funzionamento di irrigazione allora siamo arrivati in uno dei punti più estremi vedete che l'irrigazione è già pronta l'ho già preparata e adesso fatto a far partire il nostro rubinetto smart e i così possiamo fare una prova live vedete che siamo già nella schermata principale proviamo a far partire un irrigazione manuale quindi vado a cliccare sul simbolo irrigazione manuale adesso impostato dieci minuti ma come abbiamo detto tramite il nostro cerchio touch e possiamo andare ad aumentare o diminuire e andiamo a cliccare e andiamo a cliccare il tasto play a questo punto la valvola si aprirà quella all'interno del nostro rubinetto smart e in questa area arriverà molto probabilmente l'acqua si è già arrivata vi faccio vedere vedete che sta iniziando uscire l'acqua adesso sta uscendo un po' d'aria perché ovviamente avendo sganciato il tubo dell'acqua che c'era collegato che utilizziamo manualmente aprendo e chiudendo il rubinetto si è formata dell'aria che pian piano uscirà dopodiché ovviamente a quel punto uscirà solo acqua senza aria però avete visto infatti adesso ha finito di uscire l'aria con che praticità e semplicità sono stato in grado di far partire il tutto e una volta che siamo all'interno di questa schermata possiamo andare interrompere saltare o andare ad attivare ritardo pioggia quindi ragazzi spero che questo mio video vi sia piaciuto che sia stato utile perché a me piace avere la casa domotica la casa smart in ogni aspetto in ogni situazione dalle luci al tagliaerba a quello che è la porta d'ingresso a quello che è la serratura della porta d'ingresso cioè mi piace avere veramente tutto quello che è possibile smart perché comunque ci agevolano tantissimo soprattutto per un utilizzo anche quando non siamo a casa quando siamo fuori di casa possiamo avere sotto controllo tutto anche se pensate le telecamere cioè qualsiasi cosa è sotto controllo quando diventa domotica all'interno della nostra abitazione questo dispositivo è possibile configurarlo sia con alexa che con google home quindi se vogliamo abbiamo anche questa ulteriore possibilità come tutti i dispositivi smart ormai ci danno queste possibilità di connessione di integrazione all'interno di quello che è il nostro sistema di controllo nella nostra abitazione e cosa dire ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto adesso vado ad interrompere con un clic vado ad interrompere l'irrigazione si chiuderà la valvola nel sottoscala del nostro rubinetto smart e tutto si interromperà quindi se questo mio video in cui vi ho fatto vedere quello che è la configurazione l'installazione e la prova di questo orbite via e vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante nuove tante prime spoiler dei prodotti anche di lui è arrivato un piccolo spoiler quindi tantissime cosine arrivano su Instagram vi invito a seguirmi anche lì sempre se vi va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimo sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale anche di lui ovviamente quando Amazon lo mette in offerta ve lo metterò sicuramente nel mio canale telegram offerte oltre che qua sotto in descrizione trovate il link per poterlo acquistare ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao al prossimo video ciao